buongiorno agricoltori anzi agricoltubers mi avete whatsappato no voi no però molti l'hanno fatto gli hanno mandato foto che ho già condiviso sulla pagina facebook e anche molti video ho scelto i migliori e adesso ve li faccio vedere cominciamo con il dj simone che ci fa divertire per le strade di melignano buonasera ragazzi siete in diretta dalla discoteca più amata d'italia river club di soncino ragazzi questa sera non mancate grandissimo evento terra vizza e sedrisa direttamente da melignano vice e andiamo avanti con graziano di verona che ci fa vedere questo attrezzo che da solo sostituisce l'aratro l'estirpatore e l'ertice marca m o n graziano dice che l'ha provato l'anno scorso e il mais ha prodotto quasi come l'anno precedente va con circa un quarto dei costi e beh mi sembra giusto farlo vedere perché con i tempi che corrono con la crisi che c'è adesso bisogna iniziare a pensare ad un modo per risparmiare voi cosa ne pensate e per farlo e per finire ben due video di savino da palazzo san gervasio in provincia di potenza il primo con questa splendida laverda autolivellante che a me non capita spesso di vedere e per farlo il secondo con un erpice rotante al pego di x500 che a me sembrava un attrezzo strano ma che non sono abituato a vedere questi attrezzi ma giustamente savino mi dà tutte le spiegazioni mi dice ma forse hai visto le ruote dietro quelle servono per stabilizzarlo per la salda scena o il trattore si impenna un po' a 40 km all'ora bene agricoltori e per adesso è finito con i video che mi avete mandato ne aspetto degli altri aspetto le vostre foto mi raccomando cercatele sulla pagina facebook un saluto a tutti e un bacione da mistractors brum ciao 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 ciao